Raccontaci di questa esperienza che vedremo far poco. Per me è stata un'esperienza molto divertente, un'idea secondo me intelligente perché avvina appunto cinema, comunque gli attori insomma, a delle ricette di cucina, quindi ci veniva chiesto di proporre una ricetta di un piatto che per noi era stato significativo e uno chef lo rivisitava in chiave un po' più moderno e in tutto questo poi c'era un incontro con Laura dove appunto si parlava di cinema, di cibo. Era inevitabile che nascendo da questo filone di abbinamenti cinematografici di gusto, fossi chiamata a fare un po', come dire, da trinunione tra gli attori e questo progetto. Io mi sono molto divertita a farlo e devo dire che l'ho fatto davvero in maniera amichevole anche perché non tutti gli attori sono uguali, con te è scattata una sintonia particolare, ma non mi vedete dentro questa serie perché io ho fatto una chiacchierata con Lorenza come con gli altri, più che altro chiacchierando prima e quindi abbiamo rimesso a fuoco tante cose e poi, come dire, forse ero lì ad aiutarli a dare qualche spiegatura allo chef. Adesso, questa è una domanda che è un po' di ciò che è un po' di ciò. Ma manya domatili che è un po' di ciò. Grazie per la darzi, incontravo i controlli che ero lì ad aiutarli a tutti i nostri amici.